Prenderanno il via lunedì 8 ottobre i corsi di sicurezza stradale per le scuole cittadine, promosse dall'assessorato alla mobilità e organizzati dal Corpo di Polizia Municipale dell'Aquila. I corsi si svolgeranno nei mesi di ottobre e novembre e saranno tenuti dal personale della Polizia Municipale. 11 operatori saranno impegnati nelle scuole cittadine in lezioni di educazione alla sicurezza stradale. Si partirà appunto lunedì 8 ottobre con la scuola media statale Giosuè Carducci e il convolgimento delle terze classi. Successivamente i corsi si svolgeranno nella scuola primaria Gianni di Genova e nella scuola Barbara Micarelli. Ogni classe avrà due incontri con il personale della Polizia Municipale, ciascuno dei quali della durata di due ore. I messaggi saranno veicolati attraverso una comunicazione di tipo interattivo, modulata per le diverse fasce di età e di studio, sollecitando il diretto coinvolgimento dei ragazzi. A supporto della didattica saranno utilizzati strumenti informatici e al termine degli incontri saranno consegnati attestati di partecipazione. L'obiettivo infatti è quello di promuovere la crescita culturale e comportamentale delle nuove generazioni, sensibilizzando bambini e ragazzi sull'importanza della sicurezza stradale come elemento fondamentale della vita sociale e dell'educazione civica.